A breve la vedremo nei panni di April O'Neil nel film Tartarughe Ninja di Jonathan Leibsman, eppure la scelta di Megan Fox di prendere parte al progetto potrebbe non avere solo fondamenta lavorative, ma anche motivi sentimentali. Intervistata da MTV, la bellissima Megan ha infatti confessato di aver avuto da piccola una cotta per una delle tartarughe ninja, sentimento bizzarro che però l'attrice difende in modo assoluto. Tutti pensano che sia strano, ha dichiarato, ma tutte le ragazzine si innamorano di personaggi dei cartoni animati e la mia prima cotta è stata Michelangelo. Quando ero piccola le tartarughe ninja era il mio film preferito, mi piaceva molto molto di più di Guerre Stellari o, nei anni successivi, del Signore degli Anelli. Il mio film preferito è sempre stato Le tartarughe ninja. Non stupisce dunque il fatto che l'attrice si sia dichiarata a dir poco entusiasta di lavorare al fianco del suo amore d'infanzia, che per la cronaca sarà interpretato da Noel Fisher, celebre per il ruolo di Mickey nella serie TV Shameless. Una bella responsabilità per il povero Noel.